Fate molta attenzione a quello che ho qui dentro, perché qui ho esattamente 5 jolly, 1, 2, 3, 4, 5 jolly, di cui questo è il jolly leader. Ciò vuol dire che gli altri jolly seguono sempre quello che fa lui, quindi se io per esempio lo metto di dorso qui, gli altri jolly iniziano a seguirlo, ovvero se io passo la mano potete vedere come il primo jolly si gira anche lui di dorso. Questa è soltanto una cosa curiosa, ma se io passo così la mano potete vedere che ora sono 2 i jolly che si girano di dorso se io passo la mano, ora i jolly non sono più 2 ma sono 3. Se io passo la mano avete già capito che i jolly si girano tutti e 4 di dorso. La cosa ancora più curiosa è che il leader attrae a se stesso ovviamente gli altri jolly, quindi se io schiocco le dita potete vedere come realmente i jolly sono passati dalle loro biciclette e sono arrivati a trovare la carta leader. E sono tutti quanti raggruppati qua e questo è un bel gioco, mi piace da morire. Beh è un buon inizio, oggi trattiamo un argomento veramente importante. Ciao a tutti ragazzi e ragazze venuti in questo nuovo video, oggi andiamo a parlare di magia e lavoro. Infatti andrò ad elencarvi 10 consigli o step importanti per iniziare a lavorare con la magia. Prima di iniziare ringrazio ovviamente lo sponsor del video di oggi che è Fisco Zen, un servizio utilissimo per chi ha o per chi vuole aprire la partita IVA, ma ve ne parlo tra poco, proprio in uno dei consigli. A me capita ancora ad oggi quando si parla di magia, quando ho fatto uno spettacolo, quando c'è una situazione dove si chiacchiera del mio mestiere, le persone mi chiedono Ma fai solo questo? Ovvero riesci a lavorare con la magia? E la mia risposta è ogni tanto anche un po' imbarazzata, è sì, ovviamente sì. O ancora peggio quando mi viene chiesto ma fai solo questo? Cioè fai solo magia? E io dico sì, faccio magia, è il mio principale mestiere ma mi sto anche laureando. E quando dico che mi sto laureando dicono ah ok. E questo ah ok a me fa veramente male. Non perché le lauree siano sbagliate, anzi assolutamente mi sto laureando anch'io. Però è come se la magia o anche altre arti, non è solo il caso della magia, vengano trattate un po' come un gioco. Quindi se tu vivi facendo un gioco con le carte, allora è qualcosa di un po' più intangibile, qualcosa di più effimero, che può durare molto meno. Molto meno rispetto a cosa in realtà, perché io posso andare tranquillamente a lavorare in mezzo alla strada. Quindi in questo video ho voluto raccogliere degli step secondo me importantissimi per fare della magia, il proprio mestiere, per poi anche nobilitarla e trattarla proprio come se fosse un lavoro alla pari di molti altri. Quindi mettetevi comodi e iniziamo col primo consiglio. Il primo consiglio è quello di scegliere la propria stile e la propria branca di lavoro. Sapete che all'interno della magia ci sono tantissimi stili, pensiamo solo alla micromagia, quindi la magia con le carte, con le monete, con le palline, con piccoli oggetti da fare ai tavoli. Pensate al parlor, la magia, diciamo, tra la micromagia e la scena, una via di mezzo, si dice magia da pedana. Pensate alla magia da scena, quindi grandi illusioni, una donna tagliata a metà piuttosto che. Pensate al mentalismo, pensate alla magia bizarra, dove ci sono quelle cose un po' più oscure, un po' più misteriose e anche, diciamo, un po' strane, mettiamola così. Tra l'altro c'è anche una grandissima clientela di questo ambiente. Pensate anche cose collaterali alla magia, quindi la giocoleria, il fakirismo o l'ipnosi, per capire quali sono gli ambienti della magia sapete cosa dovete fare, andare su qualunque negozio di magia e vedere le varie categorie di prodotti. Cioè, ci sono prodotti per lo street magic, ci sono prodotti per la micromagia e per il mentalismo, eccetera, eccetera. Quelle sono le categorie nelle quali potete specializzarvi. Quindi una volta scelto il vostro stile, e per capire il vostro stile dovete praticarli, secondo me, un po' tutti, o escludere a priori alcune cose. Per esempio, a me maneggiare gli animali non piace. Ho visto degli atti stupendi, ho visto degli animali trattati benissimo, ho visto degli animali morire in scena, o rompersi le ali. Ecco, quella branca della magia lì a me non piace personalmente, quindi non la inizio neanche. Però so che esiste e può essere una possibilità. Ho provato a fare il mentalismo, quindi tutti quegli effetti dove provo a leggere il pensiero, far accadere fenomeni tra virgolette paranormali. Ecco, provandomi sono accorto che non sono per me. A me piace più raccontare cose con le carte, fare atti musicali o effetti proprio visuali con le carte, e ho incentrato tutte le mie energie su quella cosa lì. Se a voi invece piace lo stile di Criss Angel, di Dynamo o di Copperfield, quindi andiamo più sulla via inglese-americana, o Shin Lim per capirci, prendete spunto da quello che fanno loro, cercate di capire quali sono i vostri gusti, e create il vostro repertorio, che vedremo tra poco. Il secondo consiglio, dopo aver scelto il proprio stile, è scegliere la categoria di eventi a cui vogliamo partecipare, dove vogliamo lavorare. Ci sono tantissimi ambienti di lavoro, ve ne dico alcuni. Possiamo pensare alle feste private, alle feste aziendali, ai compleanni, ai compleanni per bambini, ai teatri, alle sagre, ai locali, agli hotel, che secondo me rientrano più o meno tutti nella stessa categoria, ovvero table hopping, magia ai tavoli, dove il prestigiatore è in piedi e fa magia al tavolo, mentre gli invitati o prendono un aperitivo, o mangiano, o fanno magia tra una portata e l'altra, e perché no, io considero ambienti anche proprio i circoli di magia. Ci sono persone che si esibiscono e basta, e persone che insegnano e basta. Un altro ambiente di lavoro può essere la propria scrivania, ovvero scrivere libri di magia, andare a fare ricerche storiche, ricerche di tecniche, ricerche di prestigiatori, e poi successivamente scrivere un libro. Perché no? Per non parlare anche delle persone che stanno dietro le quinte e che quindi creano effetti e giochi di prestigio per altri prestigiatori. Pensate a Calem Morelli, uno dei grandissimi creatori di giochi di prestigio per Copperfield Dynamo e molti altri, e anche David Blaine. Pensate a Joe Miranda, a cui ha creato moltissime illusioni e giochi per David Copperfield. Insomma, esiste la categoria inventori e consulenti. Io vi parlo ora un momentino della mia esperienza. Il mio percorso è stato il seguente, molto semplice in realtà. Ho iniziato ad esibirmi a 16-17 anni e per fare la gavetta, quindi per capire che cosa mi piacesse, ma è tutto un processo, secondo me, inconscio, perché tu all'inizio fai tutto, fai veramente tutto, e poi man mano scarti. Less is more. Quindi io giravo con le tasche piene, giravo con la borsa piena e facevo carte, monete, mentalismo, ipnosi, elastici, banconote, fuoco, qualunque cosa. Facevo per i ripesci, moltiplicavo i pani. E ho iniziato ad esibirmi nei locali. Diversi giorni a settimana facevo dalle 7 di sera all'1, 2 di notte. In questo locale, magia a tutto spiano. Non ho mai visto un euro, non mi hanno mai pagato, anzi una volta mi hanno dato una camicia per ringraziamento, ma se tornassi indietro lo rifarei, perché ho imparato tantissimo la gestione degli spettatori, quali giochi funzionano, quali meno, creare poi contatti e relazioni. Insomma, avete già capito. Successivamente sono passato agli hotel, poi ho provato le feste per bambini, feste di compleanno, eventi privati, eventi aziendali, matrimoni, fino ad arrivare poi ai centri commerciali e successivamente ai teatri. E mi sono accorto che l'ambiente lavorativo che mi esprime meglio, che mi piace di più dopo tutta questa ricerca, sono i teatri. Ma non i teatri da mille, duemila posti, anche perché non ci verrebbe nessuno, ma i teatri da 100-200 posti, al massimo. Questo è l'ambiente di lavoro dove io sto meglio, dove io mi esprimo di più e dove passa effettivamente al meglio la mia arte. C'è un libro di Dani D'Ortiz che si chiama Trabajando in casa, lavorando a casa, dove spiega benissimo come il prestigiatore, secondo lui, dovrebbe ogni volta che va a fare uno spettacolo, sentirsi a casa. E sono gli spettatori che sono gli ospiti che vengono invitati a casa del prestigiatore, dove insomma li fa sentire bene. E per lavorare sentendosi a casa, ogni volta deve essere più o meno lo stesso ambiente. Quindi il tavolo messo in un certo modo, le sedie messe in un certo modo, le luci in un certo modo, eccetera, eccetera. Ci si può sentire a casa anche lavorando ovviamente ai tavoli, perché bene o male i tavoli sono tutti simili, le situazioni sono simili e noi arriviamo in un certo modo. Quindi il secondo consiglio è quello di sperimentare diversi ambienti di lavoro, scegliere il proprio, quello che ci piace di più, quello dove ci troviamo meglio, e iniziare successivamente a creare una rete di contatti. Il terzo consiglio, che si rifà anche allo sponsor del video di oggi, è affidarsi a dei professionisti esterni per la gestione amministrativa e fiscale. Infatti fare questa professione significa anche imparare a delegare a professionisti esterni gli aspetti burocratici più fastidiosi o che non comprendiamo al 100%, perché riuscire a lavorare con la mente libera da questi pensieri è molto più utile, frutta molto di più, così da dedicarci al lavoro vero e proprio senza distrazioni. Ovviamente è fondamentale affidarsi a dei professionisti che possono aiutarci a affiancarci in ogni step della gestione amministrativa. E dato che stiamo parlando di lavoro e di libera professione, è come non citare Fisco Zen, che ci aiuta tantissimo con la gestione della partita IVA e molto altro. Io ovviamente ho la partita IVA da tantissimo tempo e grazie a Fisco Zen tutto diventa più semplice. Con Fisco Zen hai sempre al tuo fianco un commercialista dedicato e una piattaforma digitale intuitiva per tutte le tue necessità fiscali e per gestire la tua partita IVA in modo semplice. Se hai già una partita IVA o vuoi aprirla, sappi che Fisco Zen ti offre. Un commercialista dedicato e specializzato nella tua professione che potrai contattare via telefono o email e sarà sempre la stessa persona a seguirti. Una chat integrata nell'app con un team pronto a rispondere ad ogni tuo dubbio e tempo reale. Una piattaforma per creare ed emettere fatture elettroniche in pochi click. Calcolare le tasse su ogni fattura incassata e tenere sotto controllo le scadenze. E c'è di più. Se ti stai chiedendo come aprire una partita IVA o come fare la dichiarazione dei redditi il servizio include anche questo senza costi aggiuntivi. Puoi prenotare una consulenza fiscale gratuita tramite il link in descrizione e se poi deciderai di affidarti a loro riceverai anche 50 euro di sconto su tutto il primo anno di abbonamento. Ed esattamente come suona è unire l'efficienza fiscale con la tranquillità dello Zen. Quindi questo è un servizio veramente buono per tutta la parte fiscale. Fatemi sapere invece voi come gestite la partita IVA con un commento qua sotto. Il consiglio numero 4 al quale non ci pensa secondo me mai nessuno è quello di perfezionare le proprie abilità di creare un repertorio solido e di creare un personaggio. Su questo punto potrei parlare veramente ore ma vi riassumo il tutto. Perfezionare le proprie abilità vuol dire allenarsi. Cioè io vedo tantissimi prestigiatori che vanno sul palco e fanno vomitare. O meglio potrebbero perfezionare tantissimo il loro mestiere e farlo molto meglio. Perché questo oltre a creare un mercato buono dove l'idea della magia non è più quella del oh occhio che vi ruba le cose o il mago che è un fenomeno da baraccone viene qua a far ridere lo prendiamo in giro gli lanciamo le robe perché succede. Si può passare a un qualcosa di più elegante raffinato che merita ovviamente il rispetto. Cioè il mago non è un animatore. Non dimentichiamocelo. Il mago fa il mago. E per creare questo senso di rispetto dobbiamo in primis noi rispettare quello che facciamo. E per rispettare quello che facciamo dobbiamo trattarlo bene. e per trattarlo bene dobbiamo sentirlo nostro. Ogni atto ogni numero che facciamo deve essere come se fosse un nostro figlio perché così facendo si percepisce che noi amiamo quello che facciamo e di conseguenza gli altri lo percepiscono lo vedono e portano rispetto perché vedono quanto per noi è importante questa cosa. Se invece per noi la magia è il trucco che compriamo andiamo lì lo facciamo lo sbagliamo anche lo recuperiamo quindi noi non abbiamo rispetto di quella cosa lì anche il pubblico non avrà rispetto. E questo si vede all'ordine del giorno quindi allenamento rispetto e perfezionamento dell'arte e di conseguenza arriva la creazione di un repertorio solido scegliere quali sono i giochi che in primis piacciono di più a noi trovare una chiave nuova quindi di non scopiazzare gli altri perché non è mai bello perché sennò una persona paga per avere un'altra persona e non te l'originale cioè se devo scegliere compro la cosa originale non compro una roba tarocca a meno che non ci sia un grandissimo prezzo di differenza però anche lì secondo me si percepisce la taroccaggine anche perché facendo cose vostre originali poi le persone vorranno voi e non più quello che fate non più la magia il mago l'intrattenitore no no vogliono voi perché voi fate quel numero lì o avete quello stile lì e questo è importantissimo per il mercato e per fare questo bisogna creare ovviamente un personaggio che è l'ultimo step di questo consiglio cosa vuol dire creare un personaggio non vuol dire mettersi davanti allo specchio iniziare a truccarsi cambiare colore la faccia c'è qualcuno che lo fa e va benissimo perché ha senso per quello che fa lui ma vuol dire anche fare una ricerca interiore per capire chi siamo veramente cosa vogliamo mettere in scena se stiamo mettendo in scena noi o un'altra persona che caratteristiche ha questa persona se è più felice di me se è più triste di me se è come me esaltata in meglio o in peggio se parla se non parla come è vestito che orologio ha che profumo ha quali sono i suoi colori ecco tutte queste ricerche sono fondamentali sono fondamentali ci sono clienti che ricercano un mago oscuro e ci sono clienti che ricercano un mago vestito come principe ovviamente non dobbiamo snaturarci per il mercato ma non dobbiamo neanche dimenticarci che esiste un mercato questo ovviamente è il mio punto di vista ma se pensate a Jan Frisch con i capelli tutti spettinati tutto incasinato che si tocca che sembra mezzo pazzo questo suo personaggio funziona benissimo come dall'altro lato Shin Lim elegante con il fumo molto seducente funziona dall'altro ma pur essendo diversi quello che hanno in comune è che hanno creato il loro personaggio e conoscono tutti i lati di questo personaggio questo non è facile da spiegare quindi uno potrebbe dire ma Jack ma qual è il tuo personaggio il mio personaggio è quello che sono io esaltato a mille in tutto nelle sensazioni nelle emozioni sia positive che diciamo tristi malinconia perché quando faccio certi numeri diciamo che fanno riflettere che fanno pensare che fanno commuovere lì sono veramente io anzi forse sono ancora più io rispetto a quando faccio ridere e c'è stato un grandissimo lavoro di consapevolezza dietro andiamo avanti col quinto consiglio che è registrare un video promozionale e sfruttare i social su questo non mi dilungo più di tanto perché al giorno d'oggi se c'è una briocheria che hai social e una briocheria che non ne ha sono al 100% sicuro che quella con i social se si riesce a promuovere bene porti più clienti di quella che non ha a meno che quella che non hai social non faccia delle brioche leggendarie e non ci sia un passaparola devastante su quello il che è possibile non dimenticatelo però sfruttare i social fa sempre bene perché immaginate che quella briocheria che è buonissima avesse anche i social esploderebbe create un video promozionale fatevi filmare all'interno degli eventi fate vedere chi siete una breve descrizione di quello che fate il video deve essere in buona qualità non registratelo in cameretta con l'iphone che traballa o col dito sopra deve essere un qualcosa di decente che potete pubblicare sui social o su un vostro sito se ce l'avete e usate i social per pubblicare quello che fate anche con promozioni a pagamento e calcolate che ci sono anche dei siti apposta per persone che ricercano intrattenitori che sono talvolta questo consiglio è ovviamente decidere il proprio cachet cachet vuol dire quanto mi faccio pagare quanto vale il mio servizio qui ci sono tantissime filosofie tantissime scuole di pensiero all'inizio secondo me va bene tutto dallo zero a tutto ovviamente ma successivamente bisogna creare delle tariffe e non abbiate paura a chiedere io all'inizio mi facevo tantissime paranoie ma valgo 100 euro valgo 200 euro e in realtà sì il mio lavoro vale 200 euro tu magari mi paghi 200 euro un'ora ma per fare quell'ora così bene io ho studiato anni e so che sono una macchina che non sbaglio un colpo quindi vi consiglio di fare una lista prezzi vi faccio un esempio di lista prezzi potrebbe essere quanto mi faccio pagare per una festa per bambini nella festa di bambini che cosa c'è? uno spettacolo di magia spettacolo di magia più trucca bimbi spettacolo di magia più trucca bimbi più palloncini spettacolo di magia più trucca bimbi più palloncini più bolle di sapone allora il prezzo aumenta magari non di tantissimo però insomma diversificare e creare diversi pacchetti diverso è nei posti dove ci sono dei biglietti per esempio io quando faccio spettacoli a teatro o mi accordo per avere una percentuale sui biglietti venduti o chiedo un cachet fisso e il cachet fisso per i teatri non lo cambio mai che ci siano 100, 200 o 1000 persone perché quello è quanto vale il mio spettacolo e non posso cambiare a meno che non ci sia lo stesso ente che mi chiede di fare 10 tappe e allora gli faccio un prezzo scontato perché mi fa fare 10 tappe quindi chiedetevi quanto vale una vostra ora quanto materiale anche usate perché io per fare uno spettacolo magari spendo 200 euro di materiale 300 euro di materiale devo metterlo in conto nel cachet come ovviamente devo chiedere c'è un rimborso spese dormo fuori il pranzo e la cena sono pagati sono tutti i calcoli che ovviamente uno deve fare mi raccomando valorizzate quello che fate perché se voi gli date valore il cliente lo capirà e se voi esempio costate 100 e un altro costa 10 e il cliente vi chiama e dice costa 100 ah no ma c'è uno che mi viene a 10 chiama lui io non vengo a 10 non mi svaluto così perché poi quel cliente li parla con altri dice no no io l'ho pagato 10 e questa è la morte del nostro lavoro pensate che in Spagna mi raccontavano che quando un cliente chiama un mago gli dice il mago gli dice una cifra e se chiama un altro mago il secondo mago fa la stessa cifra del primo in modo tale da non fare concorrenza ovviamente ci scommetto che non è sempre così è impossibile però non a caso la Spagna è uno dei paesi dove con la magia lavorano tutti il consiglio numero 7 è un po' bizzarro però e secondo me vi fa capire alcune cose ed è esplorare varie opportunità che cosa vuol dire? vuol dire uscire dalla zona di comfort per esempio io ho fatto tantissime pubblicità per la tv per oggetti per diversi brand che chiedevano giochi di prestigio e volevano un'idea un tocco magico o anche una consulenza per creare uno spot unico e originale e se io avessi detto no queste cose non le faccio perché non le so fare avrei perso un'opportunità gigante quindi la regola fake it till you make it fai finta di essere in grado finché non ce la fai è una regola buonissima per provare a fare qualcosa di nuovo che non abbiamo mai sperimentato immaginate che domani mattina vi chiedano di fare un gioco di magia appeso ad una gru a testa in giù ok voi non l'avete mai fatto non avete magari neanche preparazione per una cosa nuova esagerata che potrebbe stimolarvi ecco io quello che farei è allenarmi provare vedere che cosa succede e farlo anche se è totalmente fuori dalla mia zona di comfort se proprio non me la sento non me la sento lascio stare ho detto la gru per fare una roba estrema ma potrebbe essere fare un mese sulle navi da crociera potrebbe essere fare tutte le sere in un night club piuttosto che esibirsi ogni weekend in mezzo alla strada chiedendo permesso al comune ecco esplorare questo vi arricchisce innanzitutto come persone e di conseguenza come artisti l'ottavo consiglio è avere una routine io sono una persona molto squilibrata per quanto riguarda orari tempo mangiare dormire ma mi sono reso conto che da quando mi sono equilibrato in una routine tempo e spazio oltre ad essere molto più efficiente mi riesce tutto meglio e sono più tranquillo io una routine vuol dire avere dei momenti nei quali si dà il 100% in ogni momento io la mattina mi sveglio faccio colazione medito e dopo inizio ad allenarmi in magia ripasso gli effetti che devo fare per gli spettacoli sono degli spettacoli imminenti studio ricerco magia o mi metto lì proprio creo delle idee per dei video e non faccio niente altro successivamente mangio faccio quello che devo fare e poi inizio a parlare esempio con i clienti a rispondere le mail quindi è un momento separato non è che mentre mi alleno con una mano dall'altra mano c'ho le mail no no questo non porta a far bene né uno né l'altro quindi creare degli scomparti e anche il riposo ovviamente è fondamentale soprattutto per chi come me si allena tantissimo tecnicamente perché tutto quello che faccio io è pura tecnica quindi create quanto più possibile ovviamente una routine se volete fare della magia al mestiere e poi ovviamente pigliatevi della vacanza raga fondamentale cioè lavorare serve per andare in vacanza e per sopravvivere siamo quasi alla fine nono consiglio avere una relazione con altri maghi non una relazione sentimentale anche se volete io una volta mi sono frequentato con una maga è stato molto interessante non entro nei dettagli intendo proprio avere delle relazioni costanti con altri prestigiatori io ho imparato molto di più vedendo altri prestigiatori che stando in casa a studiare vedere spettacoli vedere conferenze parlare fino a notte fonda con altri prestigiatori al bar chiedere fare domande dire ma questa tecnica secondo te com'è questo materiale secondo te com'è sto pensando a questa idea perché magari quella persona sa una virgola in più su quell'argomento che può totalmente accenderti la lampadina parlando con una persona di storia della magia puoi avere uno spunto per una presentazione per un effetto magico alla quale non avevi mai pensato o semplicemente una persona ti dice una frase che ha letto su un libro del Buddha e a te è svolta completamente per creare un effetto o per creare un nuovo spettacolo storie veramente successe e vedendo altri prestigiatori si rimane sempre stimolati è una cosa incredibile nella mia carriera ho perso tantissime volte la voglia di fare magia e tutte le volte l'ho recuperata guardando altri prestigiatori che facevano dei giochi che mi hanno veramente sconvolto o che usavano nuovi materiali e da lì ho ripreso a fare magia e da lì mi è risalita la voglia mille quindi createvi amici amiche che fanno magia e parlate di tutto di qualunque cosa di come tieni le mani quando fai un miscuglio piuttosto che come utilizzi il pollice finto questo è il consiglio che forse vale più di tutti e l'ultimo consiglio il decimo per lavorare con la magia e soprattutto per continuare a lavorare con la magia per avere continuità è quello di provare piacere in ogni momento ok? questo è un consiglio che mi ha dato Giancarlo Scalia un mago che secondo me ha capito tantissimo e che dice appunto che in qualunque momento in qualunque situazione noi dobbiamo provare piacere perché quando si fa magia per me la cosa più importante è sentire piacere tutto il tempo non avere neanche un momento di scomodità neanche un momento di difficoltà o di dover soffrire tra virgolette deve essere tutto piacere e questo non solo ovviamente vi farà sentire meglio a voi stessi e vi farà creare molto più desiderio di fare magia quando trovate questo punto di vista ma la cosa è che anche gli spettatori vedranno una persona più rilassata e più disposta a comunicare non si vedrà una persona scomoda che appunto crea questa barriera comunicativa avere paura ci sta perché ti aiuta a prevenire gli errori soprattutto se dobbiamo fare un qualcosa di difficile avere quell'ansietta che ti tiene sveglio è utilissimo quindi prendete tutti i nove consigli prima amalgamateli e trovate il modo di provare piacere quando fate magia che può essere semplicemente io provo piacere se sono seduto se sono in piedi se utilizzo le carte se parlo in un certo modo se sono vestito in un certo modo se la gente pensa di me certe cose se l'inganno in un certo modo se guadagno soldi se racconto un qualcosa se frequento certe persone ecco prendete tutto questo spalmatevelo addosso e andate alla ricerca del piacere perché non ci sarà niente che vi farà continuare a lavorare con la magia se non la soddisfazione di quando la fate questo è poco ma sicuro quindi questi erano i dieci consigli per lavorare con la magia fatemi sapere che cosa ne pensate se avete delle opinioni o se volete integrare qualcosa con un commento qui sotto ringrazio ancora FiscoZen per aver fatto da sponsor a questo video molto importante vi ricordo che se volete prenotare una consulenza gratuita con FiscoZen vi lascio il link in descrizione spero di esservi stato d'aiuto a me questo video mi ha dato tanto mi ha dato tantissimo farlo e me lo insomma me lo riguarderò vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video grandi raga ciao ciao